ciao indovinate dove ci troviamo in secchietta e siamo qui per voi per il prossimo aperitivo abbiamo già fissato chi viene può iniziare a metterlo in lasciata con 10 euro ci danno schiacciate oppure birra o che ne volete roba ci danno roba che facciamo che vogliamo aspettarli non si aspetta qui fino in sei visto la buona temperatura guardate siamo ancora vestiti a mosso rimaniamo qua vi aspettiamo qui venerdì venite a prenderci ciao e gas